La Corte d'Appello dell'Aquila riapre il caso dell'usura e danni di un imprenditore di Roccaraso. Davanti ai giudici aquilani sono comparsi, ADB, 55 anni, GG di 46, entrambi di Napoli. Il Tribunale di Sulmona li aveva assolti per insufficienza di prove, ma la Procura ha impugnato la sentenza di primo grado. I giudici del capoluogo hanno deciso di rifare da capo parte del processo, risentendo alcuni testimoni. Il verdetto arriverà a giugno. La vicenda risale al 2015. Per ben 4 anni, almeno secondo l'accusa, il 55enne avrebbe preteso interessi sul denaro prestato alla vittima del 21,7%, sottraendo un appartamento intestato poi alla moglie. Il 46enne avrebbe applicato interessi pari al 465,41% su un prestito di 20.000 euro. L'inchiesta era partita con l'arresto di tre persone residenti nel Napoletano, che secondo gli investigatori sono legati a ambienti della Camorra. Altri sei erano stati denunciati a piede libero, anche alcune donne. Un'organizzazione criminale che si era estesa nel territorio dell'Alto Sangro, dove, secondo quanto accertarono dalle indagini, numerosi imprenditori a causa della recessione economica erano finiti nella rete dei cravattari. La Guardia di Finanza di Sulmona aveva perfino sequestrato un appartamento vista mare a Montesilvano, del valore di 200.000 euro che un imprenditore di Roccaraso aveva ceduto agli strozzini per pagare a tassi altissimi un prestito che gli era stato concesso.